Allora, ciao! Il corso base è pensato per accrescere le proprie capacità musicali. È una serie di incontri, sono sei incontri, e in questi incontri io vi parlerò di tutti quegli argomenti che sono fondamentali per studiare musica. Quindi vi farò fare anche degli esercizi specifici riguardanti l'armonia ed il ritmo. Esercizi che sono fondamentali per una esecuzione abbastanza naturale. Sono esercizi, devo dire, che io stesso ho fatto per tantissimi anni, quindi dopo sarai tu a vedere come studiarli nel tempo. Quindi io ti do degli input, degli esercizi specifici, comunque, che potrai poi tu approfondire con calma. Quindi questo corso è pensato non tanto per i principianti, cioè per coloro che iniziano ora lo studio del pianoforte, ma che già hanno delle conoscenze base. Quindi, che ne so, conoscono i valori delle note, sanno già suonare in grosso modo, ecco qua. Comunque persone che hanno difficoltà oppure che vogliono proprio avere dei punti di riferimento diversi da quelli che di solito hanno. Quindi, se sei interessato, scrivimi su WhatsApp, ok? E quindi poi il corso verrà attivato. Verrà attivato nel momento in cui ci sarà un minimo di persone, ecco, di interessati, ok? Ok, a presto altre notizie. Ciao!